Davide Scapino, allenatore del Val Chiusella, prossima partita si giocherà sabato sul campo del Fiorano. Un avversario difficile anche perché sta lottando per la salvezza. Sì, Fiorano arriva da due risultati positivi perché mi sembra che ieri abbia vinto 2-1 in tro, un campo comunque difficile con una squadra che sta lottando per i play-off, quindi un avversario ostico, una buona squadra. Io penso che per i giocatori che ha non merita la classifica che ha in questo momento. e quindi lotterà sicuramente su tutti i palloni come lo faremo noi, loro per cercare di salvarsi e noi per cercare di portare a casa la vittoria e fare più punti possibile.